Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani mattina in centro è previsto un corteo in ricordo delle vittime delle mafie. Partirà da Piazza dell'Esquilino, arriverà al Circo Massimo, passando per Via Merulana, Via Labicana e Via di San Gregorio. Ci saranno temporanee chiusure al traffico e modifiche per 18 linee tra bus e tram. Sempre domani mattina il presidente Mattarella sarà ad Ostia per un incontro con i rappresentanti di Save the Children nella loro sede di Via Fasan. Per quel che riguarda la viabilità saranno possibili chiusure e aggiornamenti su romamobilita.it